E oggi... Arte, musica e storia. Sembrerà di rivivere le atmosfere tipiche delle feste di un tempo. Nei saloni del Palazzo Reale di Portici torna Mozart Box Giovani. Non una semplice rassegna, quanto piuttosto una sorta di celebrazione della musica da camera. Per sette weekend, dal 22 gennaio al 7 marzo, 14 concerti di artisti italiani e stranieri di consolidata fama, solisti ed ensemble, in molti casi affiancati per l'occasione in modo inedito e sorprendente, eseguiranno musiche di Vivaldi, Schumann e Beethoven, ma anche composizioni dei grandi del Novecento, come Bartók, Gershwin e Piazzolla. Arrivate alla sua quinta edizione, la Kermess nata nel 2006 come appendice della rassegna estiva che dal 2005 celebra il genio salisburghese, la versione invernale di Mozart Box è riuscita a conquistarsi uno spazio di rilievo autonomo nel circuito dei festival cameristici. Gli spettacoli, i cui dettagli sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa, saranno ad ingresso gratuito, rigorosamente su prenotazione, da effettuare entro 30 minuti dall'inizio di ogni concerto al numero 081 480384.